È un'edizione molto complessa ma che dà, secondo me, il peso dell'importanza che ha assunto il progetto Vita all'interno della città. Il venerdì 16 ci sarà lo screening cardiovascolare con professionisti sul Faxal, ci saranno 4 cardiologi mattina e 4 pomeriggio insieme a infermieri e tecnici di cardiologia. Faremo veramente proprio un calcolo del rischio cardiovascolare per indirizzarci al meglio nella prevenzione. Il sabato sarà una giornata incredibile perché avremo una cinquantina di stand che rappresentano gli attori di Progetto Vita. Ci sarà anche Radio Sound tra questi ma anche tutte le forze dell'ordine che sono parte di Progetto Vita, tutte le forze di volontariato e gli stand di Progetto Vita in Italia, almeno 4-5 sedi di Progetto Vita, porteranno la loro presenza nella nostra città di quanto stanno facendo ad Arezzo, Lodi, Pisa, ci sarà Lucca e Sanremo. Le forze dell'ordine, i vigili del fuoco e Polizia di Stato organizzeranno dei giochi per i bambini, l'aeronautica militare porteranno ciascuno dei mezzi, i carabinieri avranno le loro auto, quindi ci sarà proprio un dispiegamento di forze anche per far giocare i bambini e con l'associazione Panificatori faremo la merenda ai laboratori di lavoro, col diretti con il mercato a chilometro zero, insomma iniziative che intratterranno tutta la giornata i piacentini. Nella sera ricordo che si mangia dietro al palazzetto dello Spor di Via Alberici, quindi sotto al Faxal, dove i volontari di Progetto Vita, Capitanate e Amichele Corti, faranno una vera e propria festa di gastronomica con principi magari meno salutari ma molto ludici e si balla soprattutto che è un'attività motori importante, quindi si balla al liscio sia il venerdì che la domenica e a sabato avremo una commedia in diretto piacentino.